un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini iniziamo dalla FIPLE dove per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina si segnalano due chilometri di coda in direzione Livorno e un chilometro di coda in direzione Firenze spostandoci in A1 in direzione Roma due chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 316 tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio colla variante di Varico Baccheraia per la viabilità cittadina a Firenze si ricorda che per l'emergenza covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare il primo aprile muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio Grazie a tutti